in questo video tutorial realizziamo insieme questa bustina all'uncinetto con il bellissimo punto nocciolina inoltre avendo utilizzato un filato molto grosso il risultato è veramente pomposo è una lavorazione facilissima adatta a tutti anche a un principiante nonostante ci sia la particolarità del punto nocciolina per rifinire il lavoro io ho usato una zip e quindi nel tutorial vi spiego come eventualmente foderare e appunto andare ad inserire una cerniera alla vostra bustina prima di iniziare e mostrarvi il filato con cui ho lavorato vi lascio le misure definitive la bustina misura 20 centimetri in larghezza e circa 15-16 centimetri in altezza vediamo subito l'occorrente per quanto riguarda il filato ecco il filato che ho scelto si chiama ternessa e della tessilan dello lavoro con l'uncinetto da 6 mm per le rifiniture appunto vi potrà inoltre servire anche una zip e un pezzo di stoffa ed eventualmente una catena o una polsiera se vorrete andare ad utilizzare un metodo specifico per portare questa bustina in alternativa rimarrà appunto come un astuccio una bustina quindi da portare semplicemente a mano per prima cosa lavoreremo un pannello appunto nocciolina io adesso qui ve lo sto già mostrando ma tra un attimo vediamo la realizzazione del punto per quanto riguarda le dimensioni che vi lascio subito io ho eseguito una serie di giri che mi hanno permesso di ottenere circa 27 28 centimetri mentre in larghezza ne ho 21 chiaramente potrete variare le dimensioni a vostro piacimento con questo filato come vedete ho un avanzo e ho usato circa 160 grammi di filato andiamo quindi a vedere come si realizza il punto nocciolina lasciandovi come indicazione la mia base di partenza che è stata di 2 4 6 8 10 12 14 16 18 e 19 punti questa è la fine in realtà quindi questo è il mio inizio io ho iniziato con 19 più una catenella che mi permettono di ottenere 5 noccioline per iniziare però potrete variare all'occorrenza le dimensioni e il numero di maglie l'importante è che iniziate con un numero dispari più una catenella vediamo come si lavora il punto nocciolina ci serve un multiplo dispari nel mio caso io partirò con 19 catenelle adesso vi mostro il lavoro con un filo un po più piccolo soprattutto per una questione di colore per non farvi vedere la lavorazione bianco su bianco però mi raccomando con voi di variare il numero di partenza di catenella in base al filato che avete scelto lavorata la mia catenella di partenza aggiungo una catenella che serve solo per voltare quindi 19 più 1 nel mio caso l'importante è che abbiate un numero dispari di partenza più 1 quindi un numero pari andiamo a fare un giro a maglia bassa invece di prendere le coste in questo modo andiamo a prendere questa terza costicina che si fa dietro quindi salto quella più vicino vado in quella ancora dopo vado a prendere questa costa e faccio la maglia bassa e proseguo così per tutto il giro lavorerò nel mio caso 19 maglie basse arrivata a fine giro lavoro l'ultima maglia bassa e poi faccio una catenella per voltare il lavoro il bello di aver lavorato in quella costicina è che mi trovo sia sopra che sotto entrambe le coste ben evidenti partiamo con il secondo giro considerate che le noccioline si lavorano sul rovescio nei giri pari e che ogni volta che lavoreremo un giro dispari faremo semplicemente un giro a punto basso partiamo lavorando una maglia bassa e poi nella maglia che segue facciamo la nocciolina che è composta da cinque maglie alte chiuse insieme quindi ho caricato il filo vado nel prossimo punto porto fuori il filo e chiudo due anellini ne lascio due quindi non chiudo la maglia alta e ne vado a fare una successiva chiudo due le lascio qui e quindi ne ho tre carico di nuovo prendo il filo chiudo due e lascio gli anellini che sono diventati quattro dopo tre maglie alte faccio ancora una maglia chiudo due e ho cinque anellini ultima maglia alta la quinta nello stesso punto stiamo lavorando chiudo due e quando mi ritrovo con due quattro sei anellini sull'uncinetto li vado a chiudere tutti insieme e questa è la nostra nocciolina proseguo con tre maglie basse sui prossimi tre punti quindi vado al prossimo punto faccio la prima maglia bassa e poi nel lavoro ancora due questa è la seconda e questa è la terza sul retro del lavoro si è formata la nocciolina a questo punto ripeto la sequenza fino alla fine della riga quindi farò sempre una nocciolina seguita da tre maglie basse fino ad arrivare ad avere un'unica maglia bassa finale ma poi ci rivediamo vi faccio vedere di nuovo la nocciolina carico per la maglia alta entro questa è la prima chiudo due anellini ne lascio due faccio la seconda chiudo due ne lascio tre questa è la terza chiudo due ne lascio quattro questa è la quarta chiudo due ne lascio cinque e questa è la quinta maglia alta nello stesso punto chiudo due e quando ne ho sei sull'uncinetto li vado a chiudere tutti insieme seguono tre maglie basse andiamo avanti così fino alla fine di questa riga riprendo quando ho due maglie basse per farvi vedere la fine della seconda riga mi vado a fare la nocciolina 5 maglie alte chiuse insieme e poi mi rimarrà una sola maglia da lavorare a maglia bassa a questo punto quindi chiudo con una maglia bassa qui e giro con una catenella e questo è il risultato della mia seconda riga quindi come vedete abbiamo creato cinque noccioline a partire da 19 più una catenella e quindi 19 maglie basse del primo giro adesso facciamo un giro tutto a maglia bassa quindi l'unico punto di attenzione è non perdervi i punti sottostanti e stare attenti quindi a lavorare maglia per maglia semplicemente riconteremo questa è la mia prima poi ho questa maglia che sulla nocciolina così a seguire ne ho tre prima di incontrare di nuovo la nocciolina proseguo a lavorare questo giro dispari che è tutto a maglia bassa alla fine della riga ho controllato di aver lavorato 19 maglie basse faccio una catenella e volto il lavoro questo giro di bolle noccioline lo inizio in maniera diversa dal precedente perché io voglio che le noccioline siano alternate quindi la prossima nocciolina sarà qui in mezzo poi qui in mezzo qui in mezzo e qui in mezzo se continuassi con la sequenza del giro pari precedente facendo una maglia bassa e poi subito la nocciolina la nocciolina verrebbe sopra quella sottostante mentre io le voglio alternate quindi voltando il lavoro inizio questa volta invece che con una con tre maglie basse la prima la seconda e la terza ed è solo nella quarta che vado a lavorare la nocciolina tolto quindi l'inizio il proseguo della riga sempre alternando una nocciolina e tre maglie bassi quindi vado avanti così fino alla fine della riga alternando una nocciolina a tre maglie basse alla fine della riga finirò come ho iniziato quindi finirò con tre maglie basse vedete che la nocciolina si è andata a posizionare esattamente al centro delle due sottostanti ho lavorato l'ultima nocciolina di questo giro infatti mi trovo con tre maglie sottostanti e vado a lavorare le ultime tre maglie basse una due e tre maglie basse faccio una catenella per voltare e ripasso sopra tutta la riga sottostante a maglia bassa quindi vado a fare nel mio caso 19 maglie basse alla fine della quinta riga questo è il risultato da adesso in poi il lavoro si ripete sempre nello stesso modo quindi riparto con il punto nocciolina volendo creare le noccioline in mezzo ricomincio quindi come nel secondo giro facendo una maglia bassa la nocciolina tre maglie basse nocciolina tre maglie basse così via fino a terminare la riga con una sola maglia bassa poi ripasso sopra a maglia bassa e poi faccio il giro che in questo caso era il quarto facendo tre maglie basse nocciolina tre maglie basse nocciolina fino alla fine terminando con tre maglie basse ci ripasso sopra a maglia bassa e proseguo così fino ad ottenere il pannello desiderato una volta terminata la lavorazione del pannello che è iniziata con un giro di maglie basse e termina con un giro di maglie basse sulle noccioline proseguiamo con la cucitura infatti il nostro pannello è già il corpo borsa chiamiamolo così quindi non ci resta che andare a fare due cuciture laterali per farlo prendete un ago da lana andate ad infilare il filo che avete lasciato un pochino più lungo quando avete tagliato a fine giro e vi mettete sul rovescio quindi cuciamo dritto contro dritto sul rovescio poi andiamo a girare la nostra borsettina accoppiamo punto con punto quindi l'importante è che andiate perfettamente ad individuare la corrispondenza dei punti mettendoli ben vicini e facciamo una cucitura con lago quando ho questa situazione prendo due coste di qua e due coste dall'altra parte successivamente trovo queste singole coste da unire tra di loro e proseguo così fino alla fine quindi fino ad arrivare ad accoppiare gli ultimi due punti arrivata alle ultime due maglie da unire faccio poi un nodino di sicurezza e taglio il filo prima ancora di tagliare in realtà me lo vado a nascondere un pochettino tra le maglie ripasso un po' in giro e poi taglio fatta questa cucitura faccio la stessa cosa dalla parte opposta una volta terminate le cuciture risvoltiamo il lavoro ed abbiamo così la nostra borsettina adesso non ci resta che definire come vogliamo chiuderla e rifinirla potreste mettere una chiusura a calamita anche se a me in questo caso non mi piace tantissimo oppure fare come farò io cioè andare a selezionare una zip la zip la possiamo eventualmente anche cucire direttamente al pannello quindi in questo caso ve le andrete a sistemare e la cucirete direttamente con del filo di nylon o un filo in tinta alla borsetta all'uncinetto lasciando quindi l'interno così com'è in alternativa io vi propongo di andare a fare anche una fodera prendiamo un pezzo di stoffa lo pieghiamo a metà quindi sopra ce l'abbiamo aperta la parte sotto è chiusa ed è quella che andrà sul fondo della borsa prendiamo la nostra zip e la andiamo a posizionare al contrario quindi al rovescio sopra a tutta la zip adagiamo la stoffa a filo questo è quello che sarebbe il rovescio della mia stoffa nel mio caso in realtà è pressoché identico però in ogni caso considerate che voi dovete andare ad avere la parte brutta della stoffa davanti e la cerniera messa sul rovescio in maniera che poi avremo la parte bella all'interno del lavoro all'uncinetto blocco quindi con delle spille o delle clip e procedo ad una cucitura a filo a mano oppure a macchina o alle brutte se non ve la sentite proprio di cucire vi attrezzate magari di colla colla per soffa oppure colla a caldo una volta fatta la cucitura questo è il risultato procedo dall'altra parte quindi questa è la zip qui devo ancora fare la cucitura piego ci metto sopra la metà da unire e vado a fare la cucitura qui sopra una volta cucita la zip su entrambi i lati non ci resta che andare a fare una cucitura in questo senso considerate che l'abbiamo fatta un pochino più abbondante rispetto al nostro lavoro all'uncinetto quindi andiamo a fare questa riga di cucitura e questa riga di cucitura tagliamo eventualmente l'eccesso di stoffa e la fodera è pronta una volta pronta la fodera apriamo la zip la andiamo a posizionare all'interno del lavoro all'uncinetto la blocchiamo sui bordi e poi andiamo a fare una cucitura tra la zip e il lavoro all'uncinetto quindi procedo a cucire la zip al corpo borsa prima di mostrarvi il lavoro finito una piccola precisazione sulla cucitura allora io in questo caso ho preso un colore a tinta e passo avanti e indietro attraverso il lavoro all'uncinetto e la mia chiusura lampo quindi sto facendo questo entro per esempio qui ed esco sempre seguendo una stessa linea che questa linea non so se la notate comunque la linea della cucitura stessa della zip originale la sua cucitura quindi faccio una serie di punti avanti e indietro prendendo zip e lavoro all'uncinetto in alternativa potete anche fare una cucitura tutta nascosta quindi prendendo la zip in questo modo il tessuto della zip in parallelo e facendo altrettanto con il corpo borsa in parallelo se non riuscite a capire quello che dico potete andare a vedere il video che compare nella i qui sopra che è quello della pochette rossa proseguiamo quindi con la cucitura tutto intorno una volta terminata la cucitura della zip il lavoro è terminato potrete eventualmente valutare di aggiungere un dettaglio per esempio una polsiera o anche una catena se volete fare in modo che questa bustina non sia portata solo a mano ma appunto a polso oppure a tracollina spero tanto che questo video tutorial vi sia piaciuto per farmelo sapere potete lasciarmi un mi piace e scrivermi un commento qui sotto e per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video iscrivetevi al canale ciao e grazie